guarda qua non dura più niente la roba oggi a lavarla troppo doris l'ingegnere si è svegliato vuole il caffè grazie signor piero ben alzato lo vuole anche lei il caffè eh perché no grazie adele lo porteresti mica te il caffè a tuo zio ma io veramente dai dai che ho da fare qua